Sì, ho già stranato 71 Vuoi fare qualche video? Sì Iscritti? 180 Vabbè dai, ascolta, se non te ne ridi da me 180 Vuoi arrivare a 200 domani? Tu arrivi a 200 Instagram? Tenardagozzini No, quanti ce ne hai di iscritti? Ah, quasi 300 Vabbè, uguale Sì, mi chiamo Pippo Trattino basso E va, ti fermo questa vespa Vai È bella accesa Accidenti, è bella accesa Oh, ti senti un fischia mio Fischia se fischia Allora, ciao raga, siamo qui con Filippo Leonardo Allora, l'ho trovato, ero andato a fare una giratina Ciao Nulla, e trovo un ragazzo Il motard, insomma, prende, corre Di qua di là, alla fine l'ho passato su una rosa Va bene Tu ridi? Va Perchè tanto, ho passato su una rosa E allora, che tu ridi? Però quello c'è il motard, se tu c'è la vespa Quello c'è il motard, eh Eh, quindi, fischia fuori e merda No? Ha fatto tardi per motard Va bene Va bene, nulla Sì che Ho spazzo un po' la voce E il 5 d'ottobre ci sarà un ritrovo Io lo chiamo ritrovo, non raduno Perché non è un raduno ai motorini È un ritrovo di tutti noi ragazzi Noi Io ragazzo è riusciuto Di tutti i raga E si farà una giratina Ci si scambierà le opinioni Si guarderà le nostre vespine Ciao, si, bravo, mopede Chi c'ha, c'ha Non ci interessa nulla Tanto, tutti i motorini Sono ammessi concessi Ma io posso venire con fattini? No, te tu vieni con la lambretta Tu vieni con la lambretta Ma non ve l'ho chiesto Nulla, quindi il 5 d'ottobre Ci sarà questo raduno Qui a Montelupo Fiorentino Vicino alla Carpel Tutti sanno dove è la Carpel Oppure cercano pista Motocross Montelupo Fiorentino E lì accanto Poi ci saranno anche loro Se ci sono A voglia, a voglia Loro lo incontrai per strada Dice, mi fa lui Oh, ce l'hai due? Appicchini Appicchini Che sono gli appicchini? Appicchini Ma perché appicchini? Perché l'appicchini Perché l'appicchini? Adesivi? Allora, bello Appicchini Vabbè Oh, sono due appicchini Ci sono anche là gli appicchini Sotto le frecce Vediamo se ti attacchi un appicchino Della Vespa A voglia, bello toccano Questa non mi ha dato Malossi Chi se ne frega Malossi Io voglia mia E ora è la presunzione L'appiccio L'appiccio L'appiccio? Sono appicchini? Ahahahah In realtà Appicchia c'è lì Quanto anni vuoi avere? 15 Fischia E mio figlio lo 17 La Yankee Oh me la vendi? Quanto vuoi? Quanto vuoi? Quanto vuoi? Ti fa buscare 30 euro? Sì Sì E te ne do una normale dopo Quanto vuoi? Quanto vuoi? Quanto vuoi? Quanto vuoi? Quanto vuoi? Sì Ecco la Via scappata Do state voi? Qui Qui Ponzano Ah proprio qua Qui proprio la porta si imballe ripenuta Sì? Sì Sì Perché il tuo amico poi ti dice Oh! De Greta De Greta Ma lo conosci? E te lo farai Uuuh a voglia te se lo conosco Sono stato anche a casa sua a mangiare Sì Io volevo prendere la sella delle Ien Cioè? Puppaa Ahahahahah Ha attaccato la maniglia Avevi visto il video? L'ho visto visto Sì Ti hai attaccato la maniglia Mia io Non ce l'ha le maniglie Che mando me l'attacco Ahahahah Finiti Non ce l'ha più? Uuuuuh due precisi male è culo allora due adesivini se vedete sono più piccini questi sono quelli che uso per portatarga poi gli do l'aggrappante per la plastica adesivo e il trasparente sopra però ora gli adesivi per i ragazzi si possono fare quanto gli durano gli durano quanto gli durano ormai hanno parato la strada quindi tornando a me dici per la privacy eh? la metto così perché a te tu pensi che tu vai per la strada tutti i semafori tutte le cose una età no? non importa la copia tanto guarda sto qua giustamente mettiamo per bene scusa lei mio io lo metterò per bene che dici? penso di sì va a vedere aperta perfetto bene bevo avanti un'altra via si apre anche questa ma è che tu puoi offrire via dai scorta si vede tutte le targhe tutte le macchine l'avevi visto che l'ho lì TGM l'abbiamo visto tedesca TGM vaffanculo vai io 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 si GM questi sono mille punti eh me sta vai si fa un saluto ciao ciao Instagram Pippo Pippo e trattino basso trattino basso all'inizio o anche alla fine? alla fine Pippo alla fine e trattino basso seguitelo raga che c'ha sta Vespina un sembra ma la cammina eh la cammina anche la sua non fa la bischiera la cammina anche si chiama Leonardo Agoczino Instagram Leonardo Agoczino basta seguiti anche Leonardo che sono due persone fantastiche due raga fantastici ora si salutano perché io sono anche stanco anch'io ciao raga ciao raga appunto vai andiamo guardiamo guardate là mezza pedalata come dico io giusto? senti là che minimo ma un 130 l'ha messo lì sotto però no benzina ricordi qua benzina senti l'elettronica comodo eh ciao ciao ciao